I nostri taggetti perfetti. Siete stanchi? No, non erano in discesa. Vi ricordate quando siamo saliti la sera? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Lo sei benedetta fra le donne, lo benedetta è il frutto del Segno tuo Gesù. Come abbiamo fatto in queste sere, incensiamo il immagine della Madonna delle Cornelle e chiediamo che l'incenso che sale al cielo raccolga anche tutte le nostre intenzioni di preghiera. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.